Ben ritrovati all'appuntamento con il meteo di giovedì 27 ottobre. Affoggiaci in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura registrata sarà di 26 gradi. La minima di 15. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da ovest-nord-ovest. Al pomeriggio moderati e proverranno da nord-nord-ovest. Per ora è tutto. Buon proseguimento di giornata.